Pillole di benessere Pillole di benessere Pillole di benessere Eccoci all'appuntamento con Pillole di benessere ben trovati da parte di Monica Celegato eccoci anche oggi con un super ospite prima di presentarvelo però vi ricordo il sito che è www.benessereinradio.it e adesso eccolo qui il dottore Alessandro Biancardi di Alchimia Natura buongiorno dottor Biancardi, ben trovato buongiorno a voi, grazie mille sta bene dottor Biancardi? sì, molto bene, molto bene perfetto allora grazie a lei e ad Alchimia Natura ovviamente stiamo facendo questo viaggio negli oli essenziali e oggi parliamo di una cosa insomma conosciutissima perché credo che la camomilla sia insomma una cosa che bene o male amano e conoscono tutti no? sì, sicuramente la camomilla è una delle piante erbacee più conosciute per la sua famosa bustina che mi va data e viene data ancora soprattutto ai bambini certo quello che molti non conoscono sono le proprietà della camomilla per quanto riguarda il suo olio essenziale l'olio essenziale di camomilla è molto pregiato tra i più pregiati e viene estratto da questi capolini che sono quindi appunto il fiorellino della camomilla che sembra una margheritina sì che diventa alla sua massima fioritura proprio in giugno e viene distillato in corrente di vapore e si ottiene un olio che ha un liquido viscoso molto particolare perché è un liquido viscoso blu inchiostro perché la camomilla quando viene distillata trasforma l'azzulene in camazzulene e si trasforma appunto l'olio essenziale quasi come una magia diventa proprio di un blu intenso quindi questo è il primo anche requisito per poter avere un olio essenziale puro di camomilla deve essere di colore blu molto accentuato ecco quindi insomma è riconoscibilissimo perché indubbiamente un olio essenziale blu è abbastanza anomalo no? di solito non hanno questo colore molto certo che è incredibile come ne possa venire fuori un olio blu però giustamente insomma se questo accade sì il processo di distillazione che trasforma dei componenti chimici avviene questo fenomeno e questo è anche un requisito appunto per riconoscerla certo è un olio fantastico che contiene delle quindi appunto camazzulene bisabololo che sono sostanze molto limitive e quindi è un olio che si presta per molti usi per esempio sul sistema circolatorio perché protegge i capillari in questo caso può essere utilizzato in un olio da massaggio per il sistema respiratorio può essere preso per via orale una goccia è molto utile nelle laringiti nelle affonie quindi quando c'è mancanza di voce e nell'irritazione delle prime vie aeree anche nelle otiti una goccia insieme a miscelato nell'olio di perico viene messo appunto nell'orecchio con una piccola garvina e risolve molto bene molto spesso le otiti questa cosa non la sapevo questa qualità della camomilla in effetti anche perché il grado di sicurezza della camomilla è veramente altissimo non è tossico, non è irritante, non ha mai dato dei problemi quindi è un olio sicuro può essere utilizzato anche per esempio per il sistema muscolo-scheletrico avendo queste sostanze che sono linitive, analgesiche e quindi può essere usato in creme da massaggio olio da massaggio per dolori muscolari dolori artrosici dolori dovuti a reumatismi, nevralgie ma anche negli strappi muscolari appunto per questa sua azione proprio analgesica certo è un ottimo battericida e può essere anche utilizzato sull'herpes zoster quindi l'herpes labiale per esempio poi in dermatologia per esempio è molto utile in tutte le problematiche che vanno dagli ezemi dermatiti, eritemi, psoriasi anche e tutto quello che è la sintomatologia degli ezemi da pannolino per esempio perché è un olio molto sicuro viene utilizzato molto per i bambini anche ah e beh sì insomma la camomilla è proprio per eccellenza la cosa dei bambini infatti credo che un po' siamo tutti legati alla camomilla proprio per questo ricordo di infanzia dottor Biancardi è verissimo infatti quindi anche per gli ezemi che sono abbastanza difficili da trattare perché se parliamo giustamente di dermatiti, dermatosi eccetera eccetera in questo caso si fa un'applicazione si fa un'applicazione molto spesso l'olio essenziale in questo caso è un componente principale di una crema per esempio a base di diossido di zinco oppure di burro di karité che sono già di per sé lenitive l'olio essenziale aggiunge pregio diciamo alla crema dando appunto il suo input lenitivo molto importante tra l'altro una cosa che sta uscendo negli ultimi anni che è la zulene quindi questo composto primario dell'olio essenziale di camomilla è un antidotto all'istamina e quindi per esempio trovi impiego in tutte le manifestazioni allergiche e infiammatorie quindi per anche tutto quello che sono i discorsi legati alle remiti allergiche appunto perché essendo un antidotto all'istamina va a modulare questa risposta infiammatoria in questo caso si prende una goccia in un cucchiaino di miele beh ha degli usi assolutamente importantissimi perché è proprio vero quello che lei aveva accennato all'inizio dottor Biancardi e cioè che noi si conosciamo la camomilla ma evidentemente ci sono tante cose che non conosciamo proprio anche dell'olio essenziale anche perché credo che giustamente uno si prende una camomilla giusto per rilassarsi ma tutte queste altre proprietà insomma credo che siano assolutamente importantissime assolutamente tra l'altro i suoi usi non sono finiti quindi per esempio si può utilizzare per innalazione oppure mettendo alcune gocce nella lampada come diffusione aromatica e in questo caso va a svolgere un'azione di istensione del sistema nervoso quindi va a favorire tutto quello che è lo stato di rilassamento di pace è molto utile si dice per le persone che provano rabbia quindi va a mitigare proprio tutte queste espressioni di rabbia che sono un po' chiuse in noi e quindi è una pianta sicuramente eccezionale poi ha anche la sua azione come antidoto per l'insonnia si pensa che la camomilla si usava anche il sacchettino di camomilla sul cuscino per esempio dei bambini perché non si riuscivano a addormentare oppure anche una goccia messa sempre all'interno di un olio da massaggio massaggiando il piede stimola proprio il rilassamento e il sonno tranquillo beh questa è una cosa straordinaria abbiamo scoperto veramente grazie a lei dottor Biancardi ad Alchimia Natura abbiamo scoperto veramente delle proprietà incredibili della camomilla insomma che è questa cosa che bene o male si conosce ma in realtà c'erano tante cose che io non sapevo e suppongo anche gli amici che ci stanno ascoltando bene io che dire dottor Biancardi la ringrazio veramente tanto ringrazio anche Alchimia Natura per il grande impegno che ci mette proprio nella produzione di questi prodotti dalla pianta al vasetto no? è il motto esatto proprio perché voi ve le coltivate cioè proprio le vedete nascere e alla fine insomma ne fate un prodotto sono come dei figli un po' eh sì immagino proprio di sì perché ci mettete una passione talmente grande che immagino proprio che siano come dei figli allora beh ricordiamo anche il sito di Alchimia Natura che è www.alchimianatura.it dottor Biancardi io l'aspetto ovviamente ancora per parlare magari di un altro olio essenziale volentierissimo grazie mille buona giornata buona giornata a voi grazie benessere in radio.it è il portale dove trovi tutto il meglio di pillole di benessere recensioni notizie anticipazioni tutte le puntate da ascoltare o rileggere benessere in radio.it salute bellezza e benessere in un click benessere in radio.it benessere in radio.it benessere in radio.it Grazie a tutti.